Qui in anteprime i pedaglioni dell'IFA la nuova Lumix della serie G, la GF1. Roberto Masserini di Panasonic ci fa vedere le principali novità. La Lumix GF1 è la continuazione dell'idea di Panasonic, del pensiero di Panasonic, nelle macchine ad ottiche intercambiabili. La GF1 si differenzia dalla nostra G1 precedente, da ad esempio un volume ridotto di meno 30% rispetto alla G1, e da un peso di meno 25%. Qui la vedete in colorazione bianca, disponibile in quattro colori, ottica intercambiabile e con l'occasione presentiamo anche una nuova, in questo caso 20 mm Mac Cake, quindi ridotto, e poi abbiamo anche un interessante 45 mm Leica, in questi casi Macro. Dietro possiamo vedere? Bellissimo, è disponibile in diversi colori? Sì, è disponibile in quattro colori. E poi abbiamo anche l'aggiunta del mirino elettronico esterno, che possiamo aggiungere in funzione di Live View, regolabile, e quindi lavora in automatismo con qualsiasi lente noi andremo a montare frontalmente. Anche questa è una novità. Grazie mille. Grazie a voi.